ah visto che ci avviciniamo all'Arnold classic parliamo sempre di più dei competitors dei partecipanti dell'Arnold classic iniziando con justin luis rodriguez che come ho detto in un altro video è un bodybuilder che a me piace molto qui fa questa ottima most muscular davvero molto piena molto densa le gambe sembrano migliorate rispetto al passato mi sembrano abbastanza grosse in proporzione con la parte alta del corpo i pettorali sono belli gonfi del tuo di pure unica pecca direi gli avambracci non sono chiaramente il suo punto forte insieme con i trecipiti però i trecipiti si notano meno in questa posa lui non lo vediamo da circa un annetto e mezzo su un palco e questo è un altro aggiornamento recente un ottimo front double bicep sembra davvero abbastanza definito in addirittura d'arrivo quasi per salire sul palco ottimi bicipiti i trecipiti sembrano meglio di quel che sono realmente bella separazione nelle braccia ottima definizione globale e dicevo un bodybuilder che a me piace molto tra quelli di seconda terza fascia non è sempre da difetti perché tutti hanno dei difetti però è uno che secondo me può piazzarsi anche in top five all'aron classic se si gioca bene le sue carte se posa bene si arriva definito se non caga fuori con la definizione e porta un buon pacchetto lui anche un'ottima schiena davvero una delle migliori schiene sul panorama secondo me credo che possa fare sicuramente bene e penso che farà bene perché comunque da un anno e passa che non gareggia che non lo vediamo quindi penso che sarà agguerrito sicuramente passando al nostro solito bovino preferito che chiaramente non deve gareggiare all'aron classic purtroppo come da tradizione dei campioni al mister olimpia che si concentrano solo ed esclusivamente su mister olimpia una volta che diventano campioni ho pubblicato alcune foto non so se siano recenti se siano subito del mister olimpia o di quando siano perché sicuramente sembra molto definito in queste foto come se fosse appena sceso dal palco e chiaramente sono foto filtrate a più non posso perché bisogna pubblicare il meglio su instagram e l'abbiamo visto circa decine giorni fa ha fatto un guest posing e si era già abbovinato abbastanza quindi non sono sicuro che queste siano foto recenti ma probabilmente sono quasi al ridosso dell'olimpia subito dopo si intende però prendiamole come recenti per ammirare il suo fisico qui capiamo quanto siano probabilmente non di ieri quando pubblicate ma di qualche tempo fa perché le gambe sono molto definite i bicipiti e tricipiti sono più separati di quanto non siano realmente in off season perché già non ce li ha separati sul palco quindi figuriamoci in off season in più le gambe sono più piccole rispetto a come ce li ha in in off season perché sul palco secondo me sono più piccoli e rispetto a come ce li ha quando è in massa quindi questo mi fa pensare che siano foto non particolarmente recenti quindi io penso che sia già in procedura di abbovinamento per il prossimo mister olimpia e dubito fortemente che lo vedremo su un palco a fare qualche altra gara quindi al massimo vedremo un guest posing o qualcosa del genere magari a pittsburgh come ha fatto sia l'anno scorso che due anni fa parlando di nick walker nicola camminatore ha pubblicato questo video su youtube più alcune foto interessanti su instagram e a parte il fatto che si allena molto molto bene sembra molto definito sembra proprio che abbia mantenuto la definizione pre mister olimpia pre infortunio affamorale che gli ha fatto saltare l'olimpia e questo mi fa pensare che voglio aggare già da breve l'ho già detto in altri video io credo che lo vedremo a breve su un palco perché non che sia definito da palco ovviamente però sembra molto molto definito come se stesse per per ghiareggiare tra l'altro una cosa che mi piace molto di nick è che si allena davvero bene raramente si vedono di builder che si allenano così bene con una esecuzione così controllata così perfetta praticamente questo gli fa onore perché non tutti sono così bravi nell'allenarsi queste sono altre foto che ho pubblicato su instagram dove fa vedere le gambe chiaramente non è la prospettiva migliore perché sembra enorme di sopra è molto piccolo di gambe sappiamo che lui le perde un po' quando si definisce abbiamo visto soprattutto all'arron classic l'anno scorso e credo che le gambe abbiano contribuito a costargli l'arron classic l'anno scorso a favore di samson d'auda quindi sicuramente c'è un po di lavoro da fare sulle gambe qua adesso sono altre foto dove fa vedere gli integratori che prende per essere così abbovinato anche lui però tornando al discorso di prima io credo che voglia gareggiare a breve per qualificarsi l'olimpia perché ricordiamoci che non avendo gareggiato l'olimpia non è qualificato per l'anno prossimo quindi è nel suo interesse gareggiare il prima possibile qualificarsi il possibile per farsi un po di massa chiaramente non un anno pieno di massa ma 5 6 7 8 mesi di massa per poi iniziare la definizione per l'olimpia quindi io credo che vedendolo così definito così pronto per salire su un palco con gli ultimi ritocchi da dover fare io credo che abbia continuato a mantenere la condizione che aveva prima dell'olimpia per gareggiare il prima possibile e prendersi il tempo necessario per fare anche un po di massa non so adesso quali siano le gare subito dopo l'arnold classic ci sarà sicuramente il new york pro quando ad aprile a maggio in genere è sicuramente qualche altra gara intorno a quelle date non credo che lo vedremo a sorpresa all'arnold io credo che voglia farsi una qualifica più o meno tranquilla e voglia farlo nell'immediato però fatemi sapere che ne pensate anche voi se pensate che voglia gareggiare subito come come penso io per poi stare un po un po tranquillo mettiamolo così perché guardate che vascualizzazione è vero che si sta allenando però se uno non è definito non si vedono i dettagli che ha nei deltoidi nei pettorali nei bicipiti quindi tutto ciò mi fa pensare a quello che che ho appena detto non so se lo vedremo meglio però non ho spulciato bene le gare le ho guardate poco attentamente qualche giorno fa però ce ne sono subito dopo l'arnold e intorno al new york quindi magari lo vedremo di quella gare lì buona